Se hai la sensazione di sprecare risorse nella tua attività di marketing, è possibile che il tuo approccio ai clienti e al mercato debba essere rinnovato. Imprenditori e manager si concentrano spesso sul prodotto, sulle vendite e sul presidio dei canali digitali, lasciando in secondo piano la pianificazione di una strategia di marketing che dia risultati nel tempo. La maggioranza delle aziende utilizza infatti il marketing come una segreteria di supporto alle vendite per la produzione di materiale promozionale, mentre il ruolo del marketing è quello di sviluppare la proposta strategica che sia la risposta perfetta alle necessità dei clienti. Cosa fare dunque? È fondamentale capire innanzitutto le reali necessità del mercato, comprendere cosa spinge queste persone all'acquisto, quali sono gli elementi discriminanti che guidano le loro scelte, cosa eventualmente le frena e quali sono le loro paure. Con questa chiarezza studiare poi un'offerta che sia la risposta ai problemi di queste persone. Una proposta che risolva le loro necessità, le rassicuri, crei fiducia e risulti unica e insostituibile rispetto a quella dei concorrenti. Raggiunta questa consapevolezza bisogna insistere con questo messaggio sui canali che frequentano affinché trovino nell'acquisto la risposta ai loro bisogni.